Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in tutti i miei siti qui sono Galtero per uno e comunque se avete visto lì quando se avete sentito una voce è stata lì e tanto faccio che ho vabbè, come c'è? ci salve, salve abbiamo preso un po' di cover il generatore doppio uno può prendere quella qua e quella qua poi qua abbiamo fatto rifare un po' più bellina qua abbiamo questo l'albero qua abbiamo i piretti e oggi finalmente iniziamo a mandarla cioè quella la con tutte le riporte però noi non faremo la cob solo faremo le slab perché non spawneranno i mostri cioè i mob e poi non servono le torse se la possiamo spawnerla comunque da, fai le listate no basta! tanto per quella lì se la mica deve insegnare le risultate dammene... allora, facciamo così guarda no, questa qua non sta finendo io intanto vado nella seconda non puoi volare adesso c'è un pig molto utile uccidile senza farlo cadere allora, faccio volare certo in questo caso devo volare fare il pig non sape cadere non sape cadere morisce 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 non lo fa ricadere nooo danny che volente vabbè nel frattempo vado subito comunque se non l'avete visto c'era c'è il video Minecraft che ti so che sarei eh, forse non lo caricano no, no lo dovrebbe caricare se non lo caricano mi porterò vediamo che è stato ma il problema è che era stata sballata se mi prega non è stata sballata 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 ma come blocchiamo ecco un bollard che fa tiriamo zig zag o meglio come lo fai tutte le cose di una tecchina c'è la mia e la mia e la mia è una cosa oh non sono arrivati qua e la mia 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 ho fatto male, ho rilevo l'ho uscito, sono morto ok comunque ho fatto la scheda per andare l'altro di fuori dopo togliami l'ami questo prendi tutto andiamo a dormire usa il volo nelle isole suona tutto il mondo vai ok e sennò nelle isole stanno nel mondo ovviamente noi lo stiamo parando ovviamente non lo stiamo parando se lo siamo in volo soltanto per andare dove eravamo andati non vogliamo volare in questi mondi perchè per noi è troppo cittoso non vogliamo volare subito nelle isole ma comunque vogliamo è venire un po' per la paura e avevamo giuro il volo perchè non siamo volati nelle isole potrò immanciare nei cittadini ma comunque vogliamo avere venire con il paura ma no! il mio bologno il mio bologno è un bologno ora c'è una sorpresa ah, ora c'è una sorpresa io ho cuse la sorpresa lì? è un bologno vi consiglio io ho un bologno vi consiglio e poi andate nelle altre cercare stiamo aurelio e la bufina però il mio canale si chiama e comunque mi consiglio se volete guardare il cartello di rock e dopo però non potrei guardare il mio mi consiglio di andare di guardare il tuo video poi andare non c'è, non c'è e la cucina però posso non c'è ma io ho paura che lì se la scatta e la fai aereo? e la farai, vero? e la fai aereo? e la fai aereo? ma sono molto intelligente e io stendo attenta e non mi pagare la fai aereo e non mi pagare ecco la fai aereo e la fai aereo? e la fai aereo? ma è solo una di te e la fai aereo? e quindi la fai aereo? e la fai aereo? però non abbiamo l'infinitettino ma c'è un altro modo però è un po' difficile da fare come sai non c'è il mio uomo ma c'è il mio uomo non lo prendi non lo prendi ma c'è il mio uomo ma c'è il mio uomo è un maglio allora io ora sto guardando perchè non vuoi mai tutto ok facciamoci un po' di ferro un po' di ferro un po' di ferro questo è tutto l'infinito allora c'è un obiettivo che sembra di fare la squadra in diamante comunque siamo stati finiti andremo molto più avanti quindi aspettatevi la squadra in diamante bella di nuovo qui